Trovare uno sportello bancario sta diventando sempre più difficile. Sono oltre 3.200 i comuni italiani senza una filiale bancaria. Il 41% del totale, secondo l'ultimo rapporto della Fondazione FIBA del sindacato First CISL, continuano a salire. Altre 600 filiali sono state chiuse dall'inizio dell'anno. Oltre 4,2 milioni di persone e 249 mila imprese non hanno servizi bancari nei comuni di residenza, non solo nei piccoli centri o aree montane ma anche nelle grandi città. Francesca Rizzi, segretario generale First CISL, Asse del Po. La preoccupazione di tutti questi piccoli comuni è che restano senza uno sportello bancario, quindi non ci sono i servizi ai cittadini, non ci sono i servizi alle imprese. L'osservatorio sulla desertificazione bancaria evidenzia come Lombardia, Cremona sia la peggiore insieme a Lodi per il numero di comuni con un solo sportello, mentre è a metà nella classifica dei comuni senza sportelli bancari, dove invece troneggia a livello nazionale Mantova al terzo posto. Non paga quando le banche del territorio se ne vanno. Infatti in Mantova, la ex banca agricola mantovana, guarda caso, è rimasta quella sua rete sportellare dopo che è diventata Montepaschi che ha chiuso molti meno sportelli di quelle banche che sono state invece coinvolte dalle grandi fusioni dei grandi gruppi. Le province che tengono sono quelle che mantengono le banche con un radicamento nel territorio più forte, così come tutta la rete delle BCC. Colpite soprattutto le imprese. Diventa anche molto difficile fare impresa nel momento in cui non esistono nemmeno i servizi come quello del credito, che per una impresa è assolutamente fondamentale. Fenomeno irreversibile, provate a frenarlo, ma non è facile, anche perché siamo sempre più abituati a gestire la banca dal PC o dal telefono. Stiamo tentando, insistendo con questo tema, a sensibilizzare l'opinione pubblica. È importante anche salvaguardare la professionalità di un lavoro che ha sempre aiutato la crescita economica dei nostri paesi, che ha appoggiato e ha fatto anche da contenitore per le famiglie, per i bisogni di tutti i giorni, della vita quotidiana. Poi si viene molto allettati dai servizi online, penso anche ai prestiti e al consumo, però poi attenzione perché poi sentiamo anche quanti problemi nascono dalla disinformazione. Grazie. Grazie.